La Virtus Lanciano torna all'antico e si riscopre più solida. La premeta ditta Amenta Aquilanti, due della vecchia guardia, sta fornendo prestazioni di alto livello e la squadra finora ha incassato appena quattro reti. Certo, il merito non è tutto loro, perché c'è un'intera fase difensiva che funziona, ma l'intesa affinata negli anni dai due centrali concorre. Nell'ultima domenica la Virtus ha retto l'urto di un attacco importante come quello dello Spezia, disinnescando le iniziative degli avanti Calaio, Catellani e Scetum. Semmai i pericoli sono arrivati dagli inserimenti dei centrocampisti Brezovic, Palo e soprattutto Cianagia, ma qui è stato bravo Casadei a dire di no. Proprio il portiere è un'altra notaglieta. Quest'estate doveva essere il terzo della gerarchia di Daversa, ma il mancato arrivo di Cragno e l'infortunio di Aridità hanno regalato a Casadei un'opportunità che si sta ben giocando. L'infortunio di Aridità non è grave, ma il titolare può rientrare senza fretta e Casadei potrebbe difendere la porta della Virtus anche domenica prossima a Bari. Le note dolenti arrivano dall'attacco, appena quattro le reti segnate. Da Versa smorza le polemiche, ma la sensazione è che la squadra crei poco rispetto alla mole di gioco ampia che viene sviluppata. Mole di gioco venuta meno solo a Modena, ma che si è vista in tutte le altre partite, ma le occasioni importanti da gol sono poche e se poi quelle che si costruiscono non vengono convertite, clamorosa quella di Ferrari con lo Spezia, si fa dura. Non è un caso che l'unica vittoria contro l'Ascoli sia stata approvviziata da due palle inattive passate per il piede di Mammarella, il quale è stato funzionale anche in altre circostanze. Su azione sono giunti i gol di Ferrari a Vercelli e di Lanini a Trapani. Proprio Lanini può crescere ancora tanto, mentre piccole di Francesco, tra corsa, scatti e dribbling, hanno macinato tantissimo, ma concludono poco in porta. Sarebbero importanti gli inserimenti dei centrocampisti? Zé Eduardo ha dato segnali, ma il più pericoloso continua ad essere il veterano Vastola, che quando gioca si regala sempre almeno una chance importante. Aspetti dunque salienti, su cui Da Versa può lavorare per far salire di livello i risultati della squadra.